Si è svolta oggi una protesta pacifica contro l'installazione del nuovo ripetitore telefonico in una zona residenziale a pochi passi dall'asilo di via Ferraris a Pesaro. L'antenna è stata attivata all'1 agosto nonostante la raccolta firme, le ripetute proteste e gli appelli all'amministrazione comunale. Era quello che non avremmo mai appunto voluto, però anche questo appunto fa parte di quelli che sono i nostri desideri che continueremo a portare avanti non soltanto per l'interesse nostro e del comitato di Cesare Beccaria ma per tutti i cittadini appunto di Pesaro contro questa installazione selvaggia sulla base di una normativa nazionale appunto scelerata che consente alle società appunto di telefonia di installare qualsiasi appunto sito, in questo caso è un sito privato della società appunto Telecom delle impianti telefonici. Speravamo insomma, viste le rassicurazioni iniziali, che questa appunto antenna non venisse mai messa in funzione. Si parla soltanto di campo elettromagnetico, parere appunto dell'ARPOM che presenta numerose inesattezze sia in riferimento alle misurazioni rispetto agli edifici sensibili, quali appunto l'asilo. L'altra cosa spiacevole è che effettivamente l'installazione, non sappiamo se c'è, verrà posto appunto rimedio o no o c'è stato effettivamente un errore di installazione, su questo ci potrà rispondere soltanto effettivamente la società che ha provveduto ad effettuare l'installazione e questo rumore appunto acustico che è diventato veramente un problema molto serio e di cui non si fa riferimento, vi assicuro, né nel progetto né tantomeno l'ARPOM l'ha preso in considerazione perché l'ARPOM è tenuta a dare una valutazione sul campo elettromagnetico. I residenti preoccupati per il rischio provocato dalle onde elettromagnetiche e l'inquinamento acustico si sono riuniti per ribadire il proprio no alla nuova antenna di via Forlanini. Provarsi questa antenna, questo totem da un giorno all'altro che gli ultimi giorni hanno montato il ponte radio vero e proprio mi ha fatto veramente male perché non c'è stata nessuna comunicazione, nessuna riunione con i cittadini per dire, per avvisarci di quanto poteva essere, di quello che poteva essere fatto e bastava magari essere un pochino più trasparenti e quindi ci siamo trovati proprio completamente disarmati con le istituzioni, in questo caso il comune perché bisogna essere chiari, quindi dal sindaco a scendere che non ha mai assolutamente risposto alle nostre interpellanze. Presente alla protesta pacifica anche il consigliere regionale Nicola Bagliocchi. Abbiamo già trattato il tema anche in consiglio comunale con il consigliere Daniele Malandrino e riteniamo che questo quartiere non merita questo trattamento e quindi siamo venuti ad appoggiare questa protesta assolutamente pacifica che ha solo lo scopo di farsi sentire e di evitare l'allaccio di questa antenna, almeno in attesa del nuovo piano antenna che il comune ha annunciato. Quindi mi sembra molto opportuno che in attesa di questo nuovo studio che dovrà andare a ricercare la zona più giusta per la collocazione di queste antenne si possa almeno stoppare, fermare questa situazione perché questi residenti hanno tutto il diritto di vedere tutelata sia la loro salute che il valore immobiliare delle loro case.